Nei programmi elettorali, se si fanno tanti conti, ci sono decine e decine di miliardi di promesse nei programmi elettorali delle vostre coalizioni e nei programmi elettorali degli altri partiti. Non temete che l'Italia precipiti immediatamente in una situazione che abbiamo già visto, crisi del debito, vendita dei nostri titoli, tassi altissimi per il finanziamento alle imprese e alle famiglie. Insomma, abbiamo conosciuto situazioni simili. Varebbe la pena essere un po' più prudenti e misurati in quello che si promette? Guardi, la mia risposta è molto semplice. Se lei fa il paragone tra tutto quello che sta dicendo il centrodestra e quello che diciamo noi, noi abbiamo accanto alla vicenda bollette un'unica, vera, grande proposta di riduzione fiscale. Questa proposta di riduzione fiscale è la riduzione delle tasse sul lavoro, della riduzione del cuneo fiscale, aiutare lavoratrici e lavoratori ad avere, alla fine dell'anno, grazie a questa riduzione fiscale, grazie a questa riduzione di tasse sul lavoro, una quattordicesima in più. Questo è fondamentale, aiuta le lavoratrici e i lavoratori ad avere un salario più solido rispetto a un momento in cui l'inflazione è così pesante. Io non ho memoria, nella mia età adulta, di un'inflazione così elevata. Era dagli anni Ottanta che non era così. Noi abbiamo bisogno di dare ai salari più corposità perché le famiglie riescano a reggere. Questa è l'unica modalità con cui può venire. Questo tra l'altro aiuta anche il datore di lavoro, che ha così un rapporto più stabile con il lavoratore, combatte il lavoro nero. Questa è l'unica grande, importante proposta di riduzione fiscale che noi facciamo. Abbiamo messo nel nostro programma una serie di forme di copertura, dalle riduzioni dei sussidi ambientalmente dannosi, al tema della lotta all'evasione fiscale, che per noi è fondamentale e dalla quale devono arrivare molte risorse, come anche nei piani del Governo che è stato fatto cadere era stato previsto. E crediamo che accanto a questo sia possibile quindi fare una politica economica credibile. Esattamente come stiamo facendo in questo periodo. Anch'io sarò giovedì in aula, alla Camera, prenderò la parola, dirò la mia su quello che è necessario fare oggi per aiutare le famiglie e le imprese ed evitare che l'Italia salti per aria per colpa della strategia di Putin. Ma tutto questo va fatto insieme all'Europa e tutto questo va fatto soprattutto in modo efficace, sapendo che noi stiamo purtroppo su una montagna di debito pubblico, montagna di debito pubblico che è cresciuta. Questa montagna di debito pubblico è salvata esclusivamente dalla nostro essere parte di un'Unione Europea che ci consente, per esempio, torno alla nostro confronto di prima sui soldi europei, i soldi dell'indebitamento europeo sono stati possibili per noi, grazie all'Europa. Fossero stati solo nazionali, non sarebbero stati possibili perché noi abbiamo usato tutti i margini che avevamo. Ecco l'importanza anche qui dell'Europa. Sicuramente la situazione nella quale si trova l'Italia sul piano dei suoi conti pubblici non è ottima. Sul debito si è detto e obiettivamente insomma chi ha governato negli ultimi dieci anni una parte di responsabilità probabilmente ce l'ha perché abbiamo sempre questa Europa che ci salva ma se avessimo anche dei governi che non buttano i soldi sarebbe decisamente meglio. È la ragione per la quale Fratelli d'Italia si sta tenendo il più possibile su un programma che sia fattibile in una situazione economica che facile non è. Proponiamo per esempio come taglio delle tasse generico diciamo così una flat tax incrementale quindi una flat tax al 15% su quello che guadagni in più rispetto all'anno precedente. Sono d'accordo sul tema della riduzione fiscale che costa 16 miliardi di euro. Quando Draghi spese 8 miliardi sulla riforma fiscale noi chiedemmo che quei soldi andassero al taglio del cuneo fiscale si è fatta un'altra scelta con il PD al governo altrimenti oggi staremmo a metà dell'opera. In ogni caso anche noi abbiamo come obiettivo quello di un taglio del 5% il cuneo fiscale per i redditi più bassi, due terzi lato lavoratore, un terzo lato azienda. Credo che da subito però un segnale importante sarebbe quello di una tassa al 5%, quindi tassa piatta anche qui, sui premi di produzione straordinari, l'aumento del fringe benefit a 2 mila euro e alcune misure che si possono fare per dire alle imprese se lavori di più ai lavoratori, se lavori meglio lo Stato non ti romperà le scatole perché questo è quello che dobbiamo fare. Dopodiché sono contenta di sentire da Enrico Letta che l'unica misura grande di spesa che c'è nel loro programma è il taglio del cuneo fiscale perché ieri in una manifestazione in questa carta di Taranto che hanno fatto nella quale mi piacerebbe anche sapere che cosa pensa Enrico Letta che per la verità applaudiva delle parole francamente scandalose che sono state espresse dal governatore della regione Puglia che diceva che la Puglia è la Stalingrado d'Italia e che noi dobbiamo sputare sangue perché siete bravi a dare le lezioni ma poi forse ogni tanto il senso della misura non dovreste perderlo perché ieri in questa carta si è annunciata l'assunzione di 900 mila dipendenti pubblici al sud come misura diciamo così per combattere la disoccupazione che è una cosa che a occhio qualche costo ce l'ha per cui o non avete detto la verità ieri o non dite la verità oggi Iscriviti al canale